Il Trentino si appresta ad accogliere altri immigrati chiedenti asilo ed anche all'Alto Garda viene chiesto di fare la propria parte. La provincia autonoma di Trento ha attuato la scelta di evitare l'ammassamento delle persone in un'unica struttura, scegliendo di smistarli nelle valli. Un incontro si è svolto oggi pomeriggio tra l'assessore provinciale alle politiche sociali Zeni e i sindaci dell'Alto Garda, con la comunità di valle e i referenti del progetto. Ma sentiamo dalla voce di Paolo Tonelli della cooperativa Arco Baleno e dell'assessore Zeni quale sarà la scelta per l'ospitalità dell'Alto Garda. Il Trentino insieme a tutte le regioni italiane è chiamato oggi a farsi carico di un problema che non è più neanche soltanto nazionale, quello degli sbarchi delle tante persone che arrivano in Italia e dall'Africa. E quindi come Trentino noi abbiamo nell'accordo tra Stato e Regioni l'obbligo di accogliere lo 0,9% delle persone che appunto raggiungono il nostro paese. Questo vuol dire che dobbiamo muoverci come provincia per cercare di organizzare questa accoglienza. E come lo si può fare? O lo si può fare centralizzando e quindi ammassando in grandi numeri i profughi e in questo momento Rovereto in particolare sta sopportando gran parte del peso, oppure che sarebbe la strada che invece noi vogliamo provare a fare per evitare i grandi assembramenti che sono quelli che provocano più impatto sui cittadini e sulle persone, sulle comunità, quello di distribuire in maniera più equa possibile senza guardare la matematica ma cercando di avere equità nella distribuzione in piccoli nuclei. In questo modo si favorisce l'accettazione da parte della popolazione perché 10 o 15 persone hanno un impatto diverso di 100 e in questo modo si favorisce anche un'integrazione attraverso l'associazione, il coinvolgimento delle comunità, dei comuni che permettono anche per il dopo di avere più possibilità di accoglienza vera, integrazione vera e quindi evitare dopo i problemi sul lungo periodo. Richiadenti asilo, cioè di quelli che sbarcano a Lampedusa e richiedono asilo. In questo momento sono 11 alla moletta di Arco e 4 in due famiglie, una di Dreno e una di Riva del Garda. Fra pochi giorni dovrebbero arrivare 17 persone a DRO e altre 4 ad Arco, quindi un numero assolutamente contenuto per il momento. Le strutture dove saranno? Le strutture, beh, alcune sono già, quella della moletta è una grande casa dove ci sono già ospitate 11 persone e diventeranno 15, invece quelli di DRO saranno presso 3 appartamenti di una persona, di un privato che li ha messi a disposizione. Io credo che c'è molta più preoccupazione, come si può dire, un po' montata ad arte qualche volta della realtà. La realtà è di persone che hanno avuto traversie tremende nella vita e sono costretti a scappare dai loro posti. La nostra attività, l'attività che viene chiesta da Arcobaleno, da Cinformi, dalla provincia autonoma di Trenta è quella di fare i facilitatori, cioè proprio fare questa opera di mediazione, diciamo così, fra la realtà locale e queste persone. Noi credo che ce la faremo tranquillamente, insomma basta avere un po' di pazienza, capire che hanno bisogno per un attimo di rendersi conto dove è il supermercato, dove sono i servizi e tutte queste cose qui e poi invece che la popolazione e le associazioni aiutino ad integrarli nelle loro iniziative, ma da questo punto di vista abbiamo solo dei riscontri positivissimi finora in tutta la realtà della provincia di di Trento.